Rieccoci amici, come state? Un saluto a tutti da Milanello, la casa dei milanisti su YouTube, non ho centrato l'inquadratura, chiedo scusa ragazzi, mi invito a lasciare un bel like qui sotto e scrivervi qui numerosissimi, mi raccomando, lo fatelo numerosi se ti fate questa squadra qui, mettiamo un tocco di arte nella nostra giornata, arte e tanto milanismo come vedete alle mie spalle ragazzi. Allora, l'ho preso online le cornici per quelle che me l'hanno chiesto, innanzitutto è una giornata molto importante, sta succedendo davvero di tutto, voglio però prima iniziare con un grandissimo, enorme in bocca al lupo per Sebastian Haller, giocatore che avevamo anche un po' caldeggiato come possibile obiettivo per l'attacco negli scorsi mesi, ha dato il Borussia Dortmund ed è stato scoperto un problema molto serio e quindi ecco, al di là poi del Milan ovviamente mi sento in dovere di mandargli idealmente ovviamente un abbraccio e un enorme in bocca al lupo perché possa risolvere tutto e rientrare in campo presto con la sua grande abilità a fare gol, giocatore che mi sarebbe piaciuto vedere al Milan, lo sapete. Sta succedendo un po' di tutto ragazzi, allora innanzitutto partiamo da che cosa? Partiamo da una clamorosa, clamoroso epilogo di calciomercato perché si sta per concretizzare una beffa per i cugini, clamorosa, ripeto beffa, clamorosa, che riguarda una nostra rivale, quindi ne parlo qui. Possiamo parlare ogni tanto anche delle altre, visto che gli altri fanno lo stesso sui loro canali, in riferimento a noi vengono qui a punzecchiare, ultimamente stanno venendo un po' meno. Vi ricordate Botman, Milan beffato, eccetera eccetera eccetera? Loro avevano di fatto in mano Bremer da tempo, forse anche più lontano, più lungo, sicuramente sì. E adesso vengono beffati da un altro rivale come la Juventus, che comunque ha fatto uscire De Ligt, quindi si prendono Bremer ma hanno fatto uscire De Ligt, difesa 4 vediamo Bremer come gioca, a me piace, lo sapete. Ma ora i cugini che facevano tanto i galletti, insomma hanno le orecchie un po' più basse e devono rivalutare un po' anche il mercato che doveva essere di Bala, Frattesi, Bremer. Invece adesso è un mercato in cui hanno già fatto più o meno tutto e la cosa che faranno nuova sarà una cessione, Skrignar o un altro, insomma ne vedremo delle belle ragazzi. È una beffa sicuramente molto importante ai fini degli equilibri del calciomercato e della prossima stagione ovviamente. Vediamo, vediamo sempre con attenzione, però vi dicevo che questa è la settimana per il Milan, è la settimana del Milan. Innanzitutto c'è oggi, ci sono in arrivo gli agenti di Tanganga o Tanganga, giocatore che sappiamo arriverebbe dal Tottenham, ha cresciuto nell'Academy del Tottenham, che non ha avuto tantissimo spazio, a gennaio Milan ci aveva provato, alla fine il giocatore è rimasto lì perché Conte non lo voleva far partire. Allora, oggi in arrivo i suoi agenti, cosa molto significativa, ma ieri è arrivato a Milano anche Paratici, dirigente del Tottenham appunto. E vediamo se già oggi o non credo domani, ma dopo domani, ci potrà essere questo incontro anche con il Tottenham. Oggi è un incontro con i suoi agenti per cercare di trovare la quadra definitiva, ma in questo momento il nome di Tanganga o Tanganga è molto 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 caldo. La presenza a Milano degli agenti, insomma, fa capire che si vuole provare a trovare la quadra, a chiudere, rispetto anche a delle concorrenti inglesi che non scaldano più di tanto il giocatore. Che, va detto un'altra cosa, quest'anno ha giocato prevalentemente a destra, è un centrale che può giocare anche a destra. Ieri vi dicevo però, palle alte, ha vinto il 60% dei duelli, alto 1,86 e come mi avete detto voi, anche se anche Cordoba, Cannavaro non erano altissimi, ma saltavano tanto. Quindi, lui sembra uno di questo profilo, ha vinto il 60% dei duelli aerei, è un giocatore anche molto aggressivo nell'uno contro uno, un po' alla Tomori, a me ricorda Tomori, anche perché arriva da quel calcio molto aggressivo in cui cerchi di tenere la difesa alta e puoi recuperare. Dobbiamo però aggiungere un aspetto, che Tanganga arriva da un infortunio. Lui ha saltato una ventina di partite, se non sbaglio, perché ha avuto un infortunio solo al ginocchio, e quindi in qualche modo ci sarà anche questo aspetto da valutare, cioè vedere come rientrà dall'infortunio. Però quando hai 23 anni, tendenzialmente, insomma, puoi rientrare anche bene. Ecco, quindi c'è questo aspetto qui, del quale non avevamo ancora parlato, mi sembra giusto invece sottolinearlo. E vediamo se tra oggi o giovedì ci saranno incontri, appunto, anche comparatici per definire il tutto, come, con che formula, prestito con diritto di riscatto per il Milan, il Tottenham sembra essere intenzionato ad accontentare il Milan, anche se preferirebbe ovviamente l'obbligo di riscatto, ma il Milan non vuole fare l'obbligo di riscatto, facendo leva anche sul punto di domanda legato alle condizioni dopo un infortunio di questo tipo. Devo dire che, ragazzi, difesa, megnani in porta, speriamo tutta la stagione senza problemi. A destra Florenzi-Calabria, all'occorrenza anche Tanganga. A sinistra abbiamo Teo, Balloture invece oggi non è un punto di forza. Tomori-Calulu, rientra Kier a breve, lo vediamo in campo, ragazzi. Kier è quasi pronto e se torna a certi livelli, ragazzi, è come lecarsi le dita, ecco, perché l'anno scorso, dal primo dicembre in poi, non l'abbiamo mai avuto. Aggiungiamo anche questo ragazzo. Ecco, sinceramente non credo che comunque andrà via gabbia, perché ne devi avere 5. Se giochi con una difesa 4 e due centrali, devi averne 5. Anche se gabbia ha offerte soprattutto dalla Sardoria, però a quel punto rimarremo un po' scoperti con 4, di cui uno rientrante dall'infortunio, l'altro rientrante dall'infortunio. Forse, visto anche quello che è successo l'anno scorso, la concentrazione di partite da qui a metà agosto non è il massimo. Però, ragazzi, è un profilo che intriga. Ho letto anche tanti commenti dei tifosi del Tottenham che non si strappano i capelli. Vediamo, ecco, le valutazioni poi sono importanti da parte anche e soprattutto della nostra dirigenza, di Maldini, Massare e Moncada. Maldini soprattutto in termini di difensori evidentemente sa qualcosa. Su Duarte è vero che ha sbagliato, me l'avete scritto. Però era stato suggerito da Serginio, era un Maldini all'inizio poi della sua carriera da dirigente. E Balloturi è stato pagato poco, tra l'altro non è una segnalazione di Maldini. Per il resto, insomma, su Tomori, se riuscisse a fare un'altra operazione di questo tipo, non sarebbe affatto male. Lui ha qualche partita nell'Under 21 inglese, Tanganga, non nella nazionale maggiore, però abbiamo visto anche con Tomori, riserva del Chelsea, va giocato anche meno rispetto a Tanganga nel Tottenham, è arrivato qui e ha fatto il fenomeno. Quindi speriamo possa essere un'operazione di questo tipo e la presenza a Milano, ripeto, di agenti è molto significativa. Se lo prendiamo in prestito, ragazzi, non andiamo ad intaccare il budget, voi direte, però spendiamo i soldi del budget, è vero. In questo senso, ragazzi, ci vediamo più tardi per un aggiornamento importante. C'è anche una voce che è circolata dalla Spagna di un interessamento di Milano per un centrocampista. Devo dire che circola da un paio di giorni, proverò a verificarla, sono piuttosto scettico, ma nel video successivo poi andrò a dirvi che cosa ho raccolto. Per quanto mi riguarda, Tanganga può andare bene, soprattutto se Kier rientra a livelli buoni. Non dico alti perché sarebbe il top, ma se fossero anche livelli buoni, ragazzi, uno come Kier di fatto può essere considerato quasi come un nuovo acquisto. E non lo dico perché non devono arrivare altri acquisti, ci mancherebbe altro. Però è una difesa che secondo me sarebbe migliore rispetto a quella dell'anno scorso. Questa è la mia idea, ragazzi. Ditemi che cosa ne pensate. E ripeto, il nome in questo momento caldissimo per la difesa è Tanganga. del Tottenham, cresciuto nel Tottenham, che ha un problema fisico dal quale appunto speriamo possa aver recuperato bene. Saranno fondamentali ovviamente le visite mediche. Vi mando un abbraccio, ragazzi. Ci vediamo più tardi. Eccola qui, la scultura, diciamo così, scultura del Milan. E le mie magliette non sono soltanto queste. Vi mando un abbraccio, ragazzi. Vi invito a lasciare un bel like qui sotto, iscrivervi qui, attivate la campanella e scaricate l'applico numero 10 dal link qui sotto. Fatelo numerosissimi. Da questo link scrivete chi siete e chi avete, da dove ci seguite. A breve saremo presenti anche noi. Uno di voi vincerà la maglia del Milan, ufficiale della prossima stagione, con lo scudetto, con l'originale, tra quelli che verranno scaricato da questo link. Ciao ragazzi, a dopo.